Oggi ci immergeremo in un affascinante viaggio di trasformazione. Esploreremo metodi potenti per rimodellare il nostro rapporto con il denaro. Guarda fino alla fine, poiché ogni consiglio condiviso è una chiave per sbloccare la prosperità. Andiamo insieme alla ricerca di una mentalità adeguata e positiva. In questo video ti svelerò un metodo straordinario in grado di trasformare radicalmente il tuo rapporto con il denaro. Ho visto questo approccio compiere vere e proprie magie per molte persone e non vedo l'ora di condividerlo con te. Immagina le credenze come fili invisibili profondamente radicati nella nostra mente, in grado di plasmare le nostre percezioni e azioni in materia di finanze. Considera per un attimo l'impatto profondo delle lezioni assorbite durante i nostri anni formativi. Forse ti è stato inculcato il concetto che il denaro è la radice di ogni male o che è meglio non legarsi emotivamente agli affari finanziari. È il momento di sfidare queste convinzioni, rompere le catene invisibili e aprire la strada a un nuovo capitolo di prosperità finanziaria. Quante volte ti è stato consigliato di essere cauto o di guardare con sospetto il denaro? Questi comportamenti appresi potrebbero aver creato un modello subconscio di autosabotaggio, ostacolando il raggiungimento del vero successo finanziario. Comprendere la psicologia dell'autosabotaggio è la chiave per liberarci dalla sua stretta. Le nostre menti, nella loro ricerca innata di sicurezza, tendono a respingere tutto ciò che sembra anche solo remotamente doloroso e complicato, incluso il successo finanziario. Coltivando una mentalità che evita di diventare eccessivamente legata al denaro e nutrendo attivamente pensieri positivi, puoi efficacemente smantellare il ciclo di autosabotaggio che potrebbe aver ostacolato il tuo progresso. Si tratta di riconoscere le profonde influenze del tuo passato, sfidarle attivamente ed intenzionalmente e coltivare una forma mentis che spalanchi le porte alla prosperità finanziaria. Questo va oltre un semplice cambiamento di percezione. È un viaggio a tutti gli effetti, trasformativo, l'opportunità di riscrivere la narrativa che ha guidato le tue decisioni finanziarie fino a questo momento. Mentre intraprendi questo viaggio, considera il potente impatto dei tuoi pensieri nella formazione della tua realtà. Non si tratta solo di desiderare un futuro migliore, ma della convinzione fondamentale nella possibilità di quel futuro. Fin dalla tenera infanzia ci è stato insegnato di non portare troppi soldi, una lezione radicata profondamente nella nostra psiche per timore delle perdite. Questi avvertimenti, sebbene provenienti da un luogo di premura, piantano inavvertitamente i semi di dubbio e scarsità nelle nostre menti, creando un paesaggio mentale in cui la prosperità economica sembra un sogno sfuggente, ostacolato dalla costante paura di perdere ciò che abbiamo. Tuttavia, non temere perché un cambio di paradigma è inattesa. Di recente mi sono immerso in un affascinante esperimento le cui rivelazioni sono nulla meno che illuminanti per le anime coraggiose pronti a sfidare lo status quo delle proprie credenze. Questo esperimento non si limita a numeri e transazioni, è un viaggio di autoscopia. La tua storia finanziaria è il punto focale, un'opportunità per riconoscere e capire quelle credenze limitanti che si sono intrecciate nel tessuto del tuo pensiero. Il percorso verso il successo in termini economici è fondamentalmente un processo di smantellare le credenze apprese e di ricostruire una mentalità che si allinea armoniosamente con l'abbondanza. È come potare un giardino, rimuovendo le erbacce per fare spazio ai fiori che sbocciano. Immagina di entrare in una nuova mentalità libera dalle restrizioni delle credenze limitanti. Non si tratta solo di accumulare ricchezza, ma di coltivare una mentalità che attrae e accoglie l'abbondanza senza sforzo. Questo non è solo un cambiamento superficiale, è una trasformazione profonda che riguarda la radice stessa delle tue convinzioni. L'esperimento funge da guida, una bussola per navigare nel territorio sconosciuto delle tue credenze, rivelando il potenziale inesplorato. Ora, immergiamoci nella tecnica del portafoglio. Il tuo portafoglio, spesso visto come un semplice contenitore di banconote e carte, è in realtà uno strumento potente per la trasformazione personale. E se il tuo portafoglio non fosse solo un luogo per conservare denaro, ma un riflettore delle tue relazioni con il denaro? Esplorare questa prospettiva rivoluzionaria può aprire porte verso una nuova consapevolezza finanziaria e sbloccare risorse che potresti non aver mai considerato. È una situazione familiare per molti di noi, ma cosa penseresti se ti dicessi che esso custodisce la chiave per rimodellare la tua realtà finanziaria? Il principio fondamentale qui è mantenere sempre una presenza di denaro nel tuo portafoglio, indipendentemente dall'importo, e creare intenzionalmente un'apparenza di abbondanza. Potresti chiederti perché questo è così importante? La risposta risiede nella connessione intricata tra le tue emozioni e la risposta dell'universo. L'universo, come un amico attento, reagisce al tuo stato emotivo. Se proietti un senso di abbondanza, attirerai abbondanza verso di te. Immagina il tuo portafoglio come uno specchio delle tue emozioni finanziarie, un mezzo attraverso il quale riesci a trasmettere al mondo la tua relazione con il denaro. Considera il colore del tuo portafoglio, un aspetto apparentemente banale che può avere un'influenza significativa. Molti di noi optano per colori neutri come grigio o nero, influenzati dal benintenzionato consiglio di essere umili e cauti con i soldi. Tuttavia, mettiamo in discussione questa saggezza convenzionale. Visualizza ora la mentalità di un milionario, qualcuno che non solo gode del successo finanziario, ma emana fiducia nei suoi affari finanziari. È una mentalità che abbraccia gli aspetti positivi della ricchezza senza riserve. E se il colore del tuo portafoglio potesse essere un veicolo per esprimere e rafforzare questa mentalità prospera? E ora la parte emozionante. Ti invito a compiere un cambiamento profondo. Considera di passare a un portafoglio rosso, un colore che simboleggia passione, azione, attenzione. Oltre all'aspetto estetico, il rosso ha il potere di influenzare la tua connessione emotiva con il denaro. Infondendo il tuo portafoglio con questa sfumatura vibrante, stai inviando un segnale al tuo subconscio e all'universo che sei pronto a ricevere l'abbondanza. Vai oltre e mantieni qualche soldo dentro, anche se è una somma simbolica. Non si tratta della quantità, ma di coltivare una relazione emotiva positiva con il concetto di abbondanza. Il tuo portafoglio diventa un'affermazione visiva della tua apertura alla prosperità. Una manifestazione tangibile della tua disposizione ad abbracciare una mentalità attrattiva di ricchezza. La tecnica del portafoglio non è solo una mossa pratica. È una pratica rituale che allinea le tue emozioni, convinzioni e segnali visivi con i risultati che desideri invitare nella tua vita. Quindi fai questo cambiamento e permetti al tuo portafoglio di diventare un punto focale di energia finanziaria positiva nel tuo corso verso la prosperità. Vale la pena sottolineare l'importanza della pratica regolare di questa nuova mentalità. La coerenza nel mantenere la presenza del denaro nel portafoglio, indipendentemente dall'importo, crea un'atmosfera continua di prosperità. Incorporando questa pratica quotidiana, rafforzi la connessione tra le tue emozioni e l'energia finanziaria intorno a te, stabilendo un ciclo positivo di attrazione. Inoltre, esplorando i colori del tuo portafoglio, non sottovalutare l'impatto della scelta. Il passaggio al rosso non è simbolico, è una dichiarazione visiva della tua prontezza a ricevere opportunità finanziarie. Questo audace cambiamento diventa un faro che guida il flusso positivo della ricchezza nella tua vita. Mantieni questa pratica e lascia che il tuo portafoglio diventi un rituale quotidiano di apertura e ricezione, creando un circolo virtuoso di prosperità in continua crescita. Questa scelta consapevole agisce come un promemoria verso il tuo cervello, rinforzando la tua mentalità. Ricorda che piccoli cambiamenti visivi possono avere un effetto profondo su come percepisci e attiri il denaro nella tua vita. È fondamentale riconoscere l'influenza dell'ambiente che ci circonda. Lo spazio dove abitiamo può influenzare significativamente le nostre emozioni e di conseguenza la nostra relazione con i soldi. Piccoli aggiustamenti, come includere elementi che evocano positività e prosperità, possono creare un'atmosfera favorevole al fiorire finanziario. Quindi, sei pronto a fare questo potente cambio nella tua relazione con i soldi? Accetta la sfida. Sperimenta la tecnica del portafoglio. Abbraccia una mentalità positiva. Libera te stesso dalle convinzioni limitanti e osserva come la tua situazione finanziaria si trasformerà.